ciao a tutti ragazzi bentornati su the guardians su titan full 2 che è una vita che non lo portiamo se non contate il video che è uscito ieri della mia sfida come vi avevo detto però andavamo a provare la modalità live fire e non sono solo ma in realtà c'è anche splash buonasera adesso appunto invito o buongiorno buonanotte dipende quando guardate ok la modalità è nuova appunto altrimenti non ve la staremo facendo vedere è stata introdotta ieri o l'altro ieri con l'ultimo aggiornamento da un giga e qualcosa se non sbaglio di 64 xbox one almeno e come vi dicevo nel nel video di news una modalità veloce con due mappe molto piccole anche se questa è la più piccola delle due round da un minuto e si risolve tutto in un uccidi o vieni ucciso molto sostanzialmente e io verrò ucciso con un con un conquista anche la bandiera nel mentre se proprio un signori qui c'è uno con una torretta se avete la bandiera alla fine del del minuto vincete il turno anche se quello da dietro quindi alla fine cattura la bandiera eliminazione in sostanza con un round da un minuto figo ma la bandiera è unica la bandiera è unica ed è sempre in mezzo alla mappa ce l'ho uno dietro non vorrei dirtelo che ti ho salvato la vita perché sei stato fortunato che questo è impedito giro e ti va su di me però che c'è uno qua si ho visto adesso io muoio con la granata no sono ancora vivo attenzione chi sei tu non sei nessuno è divertente perché sono mappe piccole aia assist pilota va bene e questa è fatta bene per correre abbastanza bene sui muri si si è vero è vero ci sta no non è morto ok siamo uno contro uno e mancano 10 secondi in questo caso loro hanno la bandiera quindi o il nostro compagno di squadra lo uccide prima della fine del tempo e vinciamo noi oppure vince quell'altro e non ce l'ha fatta e ce l'ha fatta no di pochissimo non ce l'ha fatta e sfiga beh si comunque dai è praticamente l'eliminazione di halo 5 alla fine della fiera si praticamente si anche lì c'era la bandiera la portata type un po' inizia mente se di merda muori ok questo l'ho ucciso io ho ucciso quello che aveva preso subito la bandiera guarda ti consiglio tipo le mitagliette ok ho ucciso questo dalla distanza qualcuno c'è la nostra cioè si è grande ma fatto ho finito fatto ho finito ti consiglio comunque le mitagliette perché almeno in questa mappa ok si comunque diciamo che fondamentalmente come tutto titanfall non è competitivo diciamo però non è una bella modalità dai potenzialmente non è neanche camp questa modalità ma è il campo ci sono un tipo che li ho già trovati infatti mi ho appena ucciso adesso uno che le hai detto che era camperato in alto allora quello come mi ha ucciso ma come sa te ed è una cosa schifosa e nonostante tutto trovi anche quelli che largano e uno già l'ho ucciso ce n'è uno che ha fatto il giro dalla nostra parte ecco campo ma no non dico niente madonna cosa avevo fatto sono morto lo stesso peccato abbiamo fatto bene a fare proprio una stanzetta così e via perché altrimenti era troppo sì 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 oh uno l'ho eliminato con la ganata intanto adesso mi uccideranno alle spalle perché sì quando mai vuoi che non mi uccidano alle spalle dove cazzo è andato questo uh un altro con la ganata uh bello anche quello che c'era là ok vediamo se io spammo granate sempre sparando qualcuno io mi pillo la bandiera invece grandissimo ok io resisto e no eh invece non ce l'ho fatta attenzione si lancia subito sulla bandiera stai attento proprio che lì c'è il radar quindi stanno venendo tutti verso il testo ti giro gli intercetti vado di pistola ci provo con la pistola e lo uccide con la pistola uh sono ancora vivo attenzione che ho la pistoletta smart se riesco ad usare la pistoletta smart ok uh ragazzi che uccisioni che uccisioni io sono tenuto la bandiera ma va bene bella bellissima numero boom proprio numero ne avevo finito tutti i caricatori e vanno a vincere così tutto il video ok e comunque eccoci sull'altra aria eccoci direi anche mi cambio un attimo e mi prendo il car che qua è più utile perché non muore il colt o dell'alternatore non mi prendo neanche più quel cazzo che avevo si qui c'è qualcuno ok stavo facendo un epic fail che però non ho fatto c'è qualcuno davanti a noi preso ok ero già la pistola smart pronta carica veloce nooo ho fatto la cazzata e mi sono avvicinato anche troppo al microfono urlando siiii vai così esatto ed è una settimana che non sto giocando proprio a niente che cazzo era quella roba lì ma perché io mi trovo sempre quello che lagga puntualmente e che riesce a uccidermi ma da come cazzo lagga nooo eh vaffanculo ma cazzo fa la gente a giocare così non sono riuscito a fare il corpo a corpo però stai attendo anche a sinistra che arriva subito madonna che kill anche qua eh che culo però però non si è accorto di me eh ho visto ok ce l'hai fatta? si grandissimo green anche questo è perché molto spesso gli sento più che vederli e quindi sentendoli tipo qua ce l'ho alle spalle e l'ho ucciso comunque non so miracolo siamo 3 a 2 4 a 2 cos'è? si 3 a 2 ed è quello lì quello che lagga se non sbaglio può essere? si ok dai via via dai che dobbiamo vincere tutte e due di fila eh volevi ce n'è uno dentro la casotta ma che e tu stai facendo giro da qua stavo sparando uno in aria e mi è arrivato uno da sotto tutto cazzo mi ha aperto di brutto ok non so come ho fatto poi non lo può che lagga attenzione perché shanks si sta rifacendo grandissimo sei da solo ce ne sono due si e quell'altro c'è qualcuno tipo in giro qua sopra la mia testa eh è solo che ho preso la bandiera ce l'ho proprio sopra dai fai la cazzata di saltarmi lì eh ma devi il problema è che giustamente in questa modalità due contro uno devi muoverti tu non riuscivo mai a beccarlo quindi vabbè dai anche se lo beccavo con la granata si è campionato lì in fondo quindi figurati si per quanto piccolo però intanto ho fatto un mega round e mi sono ripreso si ho visto no questa è più lunga questa si si beh cioè non è grande però comunque se uno si mette in fondo a trovarlo ci metti un pochino eh eh si c'è sempre uno che ci spinta in casa però che cazzo è stato ti seguo state attenti a sinistra sono allora c'è quello che ho amparato sul tetto a sinistra assist ce n'è uno qua che lagga c'è quello sopra il tetto che avete fatto fuori ecco questa mappa però a differenza di quell'altra c'ha le zip line praticamente in centro da un tetto all'altro se volendo si possono prendere ed utilizzare no l'avevo ucciso gli mancava uno un colpo figa gli mancava veramente un colpo però vabbè dai abbiamo vinto ugualmente perché c'era l'altro dietro per cui va benissimo esatto ultimo turno e vediamo di farcela comunque state attenti perché c'è sempre quello che spinta qui in mezzo se gli ho lanciato le granate voglio ben vedere ce n'è uno qua a destra mi so ok quello che spinta fatto fuori ce n'è uno può essere lì dove sei tu magari davanti a te o sotto forse ce n'era uno sotto rimane solo un nemico rimane solo un nemico io non ho sparato ad anima viva adesso c'era la nostra sinistra dai che l'avevo preso cazzo ok è morto grandissimo dimmi che l'hai ucciso tu no non l'ho ucciso io io ho tirato il primo colpo e poi l'altro con vabbè con quella roba overpower no in realtà non è overpower vabbè ho fatto 6-5 e comunque questa era la seconda partita erano due partite ragazzi su questa nuova modalità tutte e due vinte appena uscita esatto al primo colpo quindi niente fateci sapere se ci state giocando anche voi se giocate ancora a Titanfall soprattutto oh yes cosa ne pensate della modalità avete visto che anche Splash è in grado di giocarci bene grazie eh era proprio da sottolineare questa cosa siete in grado tutti quanti di giocare bene se volete simpatico dai va bene raga e passo la palla a Splash grazie per la visione mi raccomando lasciate un like e fateci sapere se volete anche altri di questi gameplay un po' divertenti simpatici così e niente dai lasciate un mi piace un commento qui sotto fateci sapere iscrivetevi al canale nella descrizione trovate tutti i link ai nostri social network quindi seguitici anche lì se vi va e ci vediamo alla prossima ciao